Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dall'A1 dove in direzione Roma si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al km 350 tra Valdarno e Arezzo. Sempre in direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Rimanendo in A1 ma in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. A Firenze fino al 5 ottobre via del Paradiso chiusa da via Fortini a via San Marcellino. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!